E' ufficiale, Jimmy MacDonald ha accettato il nostro invito per venire qui all'Expo 2015, ma la gente conosce Jimmy MacDonald? Anche stamattina i giornali hanno parlato di Jimmy MacDonald, il famoso chef pluristellato che arriverà a Milano per l'Expo. Hai letto questa notizia? No. Però conosci ovviamente Jimmy MacDonald, il più grande chef. Tu l'hai letta questa notizia? No, non l'ho letta. Però ovviamente conosci Jimmy MacDonald? Sì, ovviamente sì. Tu conosci Jimmy? No. Non lo conosci lui? Assolutamente. Ok, niente, perché lui fa cibi molecolari, perciò voglio sapere che cosa ne... Sì, forse qualcosa l'ho sentito parlare, però non l'ho mai approfondito, forse l'ho sentito nominare. Ok, conosci ovviamente Jimmy MacDonald? Ne ho sentito parlare. Ok. Tu hai letto di questa notizia? No. Però ovviamente conosci Jimmy? Sì. Ok. Tu hai letto questa notizia? No, non ne so, non ne so, non ne so niente. Allora, Jimmy MacDonald è uno dei più grandi chef che ci sono al mondo, pluristellato, anche sulla guida Michelin. Ovviamente lo conosci? Sì. Tu hai sentito di questa notizia? No. Conosci ovviamente Jimmy MacDonald? Sì. Tu conosci Jimmy? Sì, sì, so chi è. Tu hai sentito questa notizia? No. Conosci ovviamente Jimmy MacDonald? Mi... Di Parla lo conosco. Ah, l'hai sentito nominare? Sì, un po' di popolarità. Ok. Non l'hai neanche mai sentito nominare? No. Beh, molto strano, perché comunque è molto famoso. Conosco... Gracco... Tu hai sentito di questa notizia? No. Conosci ovviamente Jimmy MacDonald? Sì. Ok, perfetto. C'è qualcosa che tu vuoi dire a Jimmy MacDonald, visto che lui viene qui a proporre la sua cucina? Beh, è un grande onore avere Jimmy MacDonald all'Expo, quindi... C'è una cosa bella che sia qua, perché comunque è uno chef molto importante, quindi è una bella cosa. Io vi farei mangiare un bel caciocavallo podolico a Jimmy MacDonald. Devi continuare così e spero che faccia bella figura all'Expo. Ciao, spero che tu abbia una bella permanenza e... Qui a Milano. Congratulazioni perché sei bravo. E Jimmy MacDonald presenzierà all'Expo 2015. Hai sentito questa notizia? No, non l'ho sentita. Sinceramente non è che mi interessi molto. Però conosci il grande chef. Sì, sì, certo, certo. Jimmy MacDonald, il più grande chef. Sì, sì. Lei conosce Jimmy MacDonald? No, io non lo... Però il Jimmy di MacDonald li conosco. No, 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 è un omonimo. È un omonimo. Conosci ovviamente Jimmy MacDonald? Sì e no. Sì e no. Cioè l'hai sentito? Sì, ho sentito sì. Hai però ovviamente sentito parlare di Jimmy MacDonald, questo grande chef. Sì. Hai sentito di questa notizia? No. Però conosci ovviamente Jimmy MacDonald? Sì. Tu hai mai sentito di questa notizia? Assolutamente no. Però conosci Jimmy MacDonald? Sentito dire. Ok, ho sentito dire. Allora, visto che sei cuoco, tu non hai sentito la notizia di questa mattina di Jimmy MacDonald, il più famoso chef mondiale, quello pluristrellato, che arriverà appunto all'Expo per presentare la sua cucina molecolare. Hai sentito questa notizia? Sì, ma cucina chimica non è il massimo. Infatti vogliamo lanciare un messaggio a Jimmy MacDonald dicendogli che la nostra cucina è meglio di quella molecolare? Per piacere. Basta. Basta. Signor Jimmy, mi dispiace, ma non puoi paragonare la cucina italiana con la sua. Allora, caro Jimmy MacDonald, ha la faccia di Masha, tutti quanti i bellissimi talent che fate, ma la nostra cucina è la migliore. A noi ci piace la cucina normale. Ciao Jimmy, la tua cucina non è meglio della nostra, mia mamma cucina meglio. Sicuro che la nostra cucina è meglio. Ho sentito Jimmy. Jimmy, fai la pizza, che è la cosa più buona che c'è. Jimmy, non ci piace la tua cucina. Comunque io conosco Christian Bogg. Ah ecco, bravo. Stop! yapa! Grazie a tutti.